L'Associazione Culturale Castellarte, per il quarto anno consecutivo, organizza per il mondo della scuola un percorso di sensibilizzazione all'arte e alla buona musica. Dopo il successo delle precedenti edizioni, per quest'anno propone la fiaba musicale Pierino e il Lupo. Le date, Atri, Teatro Comunale 1 marzo, Teramo, Sala Polifunzionale, provincia di Teramo, 8 marzo. Trent'anni di associazionismo, ma chi è Castellarte? Il Castellarte nasce nel 1988 nel borgo di Castelbasso dove inizialmente ci furono delle manifestazioni estive della dorata di un mese che culminò con la manifestazione dedicata all'archeologia Maia nel 1992, quindi unica in Europa. Dopodiché, dopo altre vicende, abbiamo fatto altre manifestazioni nel 2007 a Montepagano, dal 2009 al 2011 a Castelli e negli ultimi quattro anni ci siamo dedicati al mondo della scuola con delle iniziative didattiche rivolte agli studenti con l'organizzazione di un'opera lirica quest'anno, anche la quarta edizione. Quest'anno è la cambiata di matrimonio di Rossini, visto che è il centocinquantesimo della morte di questo autore. Sono tre appuntamenti, il Teatro Comunale di Ancarano, che abbiamo già fatto l'evento, il 6 marzo e l'8 marzo, il 6 al Teatro Comunale di Atri e l'8 sala polifunzionale della provincia. E poi l'appuntamento per i più piccoli con la fiava musicale di Perino e il Lupo, quindi con la voce narrante dell'attrice Maria Igles Potorno, e quelli più piccoli. Quindi abbiamo già tante adesioni e siamo contenti.